In questa fecondazione approfondiamo il discorso sugli apparati riproduttori e vediamo quali complesse trasformazioni avvengono in caso di fecondazione, ovvero in caso di generazione di un nuovo individuo. Torniamo ai nostri spermatozoi, togliamo l'audio, i quali adesso sono stati inseriti nelle cavità genitali femminili e si apprestano all'interno delle tube di falloppio ad incontrare l'uovo, vediamo che sono ancora parecchi, ma sarà soltanto uno a farcela. Ecco qui, adesso tra poco nell'animazione vediamo gli spermatozoi che nuotano nelle tube fino a che entrano in vista di questa grandissima cellula uovo, quindi vediamo tanti piccolissimi spermatozoi che circondano questa cellula veramente gigante. Sulla superficie della cellula uovo sono presenti delle sostanze che riconoscono, quindi sono come i recettori degli organi di senso, riconoscono gli spermatozoi appartenenti alla specie umana e li legano, ma soltanto uno sarà in grado di penetrare al suo interno. Non solo, ma non tutto lo spermatozoo penetra al suo interno, ma praticamente soltanto il nucleo dello spermatozoo entra e si andrà a fondere con quello della cellula uovo, per dare luogo al nucleo della prima cellula del nuovo individuo, la quale prima cellula si chiama zigote. Il resto dello spermatozoo rimane all'esterno e viene eliminato da appositi enzimi. Ecco adesso qui vediamo lo spermatozoo più fortunato, o possiamo dire quello più bravo, che viene catturato dalla cellula uovo. Vediamo tra poco, ecco ci sono chiaramente molti spermatozoi che ci sono riusciti, ma gli altri spermatozoi non riescono nel loro compito, in quanto dopo la penetrazione del primo, la membrana dell'uovo subisce delle trasformazioni che la rende refrattaria, cioè che impedisce ad altri spermatozoi di potersi fondere con essa. Ecco di nuovo un'immagine della cellula uovo al momento della fecondazione, vediamo che è tutta circondata di spermatozoi, anche se, come diciamo, uno soltanto ce la farà ad inviare il suo nucleo all'interno della cellula uovo, affondersi con il suo per dar luogo al primo nucleo della prima cellula del nuovo individuo, la quale si chiama zigote, il quale continua la sua discesa all'interno della tuba fino ad arrivare nell'utero. Che cosa succede all'interno dell'ovaia? Succede che in caso di fecondazione il corpo luteo rimane attivo e continua a produrre progesterone per alcune settimane. Successivamente sarà sostituito da un organo particolare che si forma soltanto durante la gravidanza. In questi gruppetti di cellule o prime fasi dello sviluppo embrionale sembra davvero difficile riconoscere una forma che possa poi condurre a quella umana. Diciamo in ogni caso che lo zigote, questa prima cellula, ben prima di impiantarsi dell'utero, inizia immediatamente a dividersi e quindi a partire dallo zigote si formano due cellule identiche che poi diventano quattro e così via, seguendo le potenze di due, quindi crescendo in numero in maniera esponenziale. E a un certo punto l'embrione assume l'aspetto di una sfera compatta di cellule che si chiama stadio amorula. Successivamente, nella formazione dello stadio blastula, tutte queste cellule che continuano a dividersi si dispongono alla periferia, andando ad individuare all'interno una cavità piena di liquido che sarà in seguito ciò che diventerà la cavità del tubo digerente. Continuando con le divisioni, vediamo che l'embrione si ingrandisce, le sue cellule aumentano in numero, ma non solo aumentano in numero, ma si organizzano fino a disporsi in alcuni strati i quali prefigurano quelli che saranno poi gli organi dell'embrione, successivamente del feto, successivamente del nuovo individuo. In questo schema che vi propongo, vediamo la rappresentazione grafica di una teoria che per lungo tempo è andata molto di moda, ovvero della teoria dei cosiddetti foglietti embrionali. Durante lo stadio successivo a quello di blastula, ovvero lo stadio di gastrula, le cellule si dispongono in strati che a lungo tempo si è ritenuto che costituissero bene i futuri organi, nel senso che questi tre strati, uno esterno detto ectoderma, uno interno detto endoderma e uno intermedio detto mesoderma, si pensavano che generassero in maniera caratteristica determinati organi e determinate strutture. In realtà nell'uomo la situazione è ben più complessa, però questa teoria dei foglietti embrionali può essere un'utile schematizzazione per rappresentare ciò che in realtà non avviene in maniera così semplice. Dallo strato di cellule più esterno dell'embrione appena formato, cioè dal cosiddetto ectoderma, che vuol dire dal greco pelle esterna, si formerebbero la pelle dell'individuo e il sistema nervoso, che inizialmente affiore in superficie, successivamente si chiude a tubo e viene ricoperto da quegli strati di cellule che formeranno la pelle, quindi anche il tubo neurale, ciò che dà origine all'encefalo e al midollo spinale, si forma piuttosto precocemente. Per quanto riguarda l'endoderma, da questo si formerebbero soprattutto gli epitali di rivestimento del tubo digerente e quello delle vie respiratorie. Molto presto, in quest'embrione di forma ancora sferica, bene, si apre un'apertura che costituisce una delle due aperture del tubo digerente verso l'esterno, ovvero l'apertura anale. L'altra apertura all'altra estremità, quella che diventerà la bocca, si forma soltanto in seguito. Dal foglietto intermedio o mesoderma, invece, tradizionalmente si ritiene che si formino tutti gli altri organi, tutte le altre parti del corpo, quindi i muscoli, lo scheletro, i tessuti connettivi, i reni e quant'altro. Come detto però, questa è soltanto la schematizzazione di qualcosa che in realtà avviene in maniera molto più complessa. Successivamente, alle prime settimane di vita, l'embrione inizia a prendere forma e non parliamo più quindi di semplice embrione, ma parliamo di feto, quindi acquisisce una forma via via più, possiamo dire, simile a quella del futuro individuo umano e soprattutto si iniziano a formare una serie di annessi embrionali. C'è alcune cellule della parte esterna dell'embrione, anziché entrare a far parte del corpo del feto, formano delle strutture esterne all'embrione e che saranno molto importanti per la gravidanza e per la vita stessa dell'embrione nel corpo materno. Le due membrane extraembrionali che si formano nell'uomo sono l'amnios e il corion. La più interna delle due si chiama amnios e, come vediamo, consiste in un sacchetto trasparente che avvolge completamente il feto e che al suo interno è pieno di liquido, il cosiddetto liquido amniotico. Questa, diciamo, invenzione della natura ha una grandissima portata e ha avuto, anche prima dell'uomo, una grandissima portata da un punto di vista evolutivo perché lo sviluppo all'interno di un sacchetto ripieno di liquido protegge l'embrione dagli urti, dalla disidratazione e costituisce una replica in miniatura dell'ambiente acquatico da cui tutti i vertebrati e di conseguenza anche l'uomo ha avuto origine. Qualcuno potrebbe chiedersi come possa fare in queste condizioni il feto a respirare. Il feto ovviamente non respira aria, soltanto dopo la nascita la inizierà a respirare. L'ossigeno e l'anidride carbonica vengono scambiati, come vedremo tra poco, attraverso uno scambio in controcorrente tra i vasi sanguigni in formazione nel feto e i vasi sanguigni materni. La seconda membrana extraembrionale che si forma durante lo sviluppo fetale più esterna rispetto all'amnios è chiamata corion, qui ne vediamo soltanto una piccola parte, e costituisce la componente embrionale di un organo importantissimo di origine per metà fetale e per metà materna, quindi comprende anche parte dei tessuti della parete dell'utero, oltre che il corion del feto, e quest'organo importantissimo, fondamentale per la gravidanza e che si forma soltanto ed è attivo soltanto durante la gravidanza, si chiama placenta, tanto che il gruppo di animali di cui fa parte anche l'uomo si chiama il gruppo dei mammiferi placentati. Per quale motivo la placenta è così importante? Perché assolve due funzioni. Primo, il nutrimento dell'embrione, e adesso vedremo in dettaglio come è organizzata. Secondo, vedremo che ha anche una funzione endocrina. In quest'immagine vediamo il cordone ombelicale, che è un cordone di tessuto tramite cui l'embrione si ancora, provo a partire dalla zona di quella che in futuro sarà l'ombelico, si ancora alla parete dell'utero. Non solo, ma il cordone ombelicale è proprio parte importante di quest'organo fondamentale, che si chiama placenta, che si forma a partire dal corion, cioè da questa membrana esterna all'embrione, e dalla stessa parete dell'utero. Quindi, come detto e ripeto, è un organo di origine per metà materna e per metà fetale. Vediamo che i vasi sanguigni del feto e della madre, nel cordone ombelicale e nella placenta, sono strettamente intrecciati e il sangue al loro interno decorre in senso opposto, cioè scorrono vasi materni e vasi fetali in controcorrente. Attraverso questi vasi a stretto contatto avvengono tutti gli scambi che assicureranno la vita dell'embrione, ovvero, o per meglio dire del feto, ovvero il feto cederà tramite i suoi vasi al sangue materno i suoi prodotti di rifiuto, per esempio l'anidride carbonica, prodotto di rifiuto della respirazione cellulare. Viceversa, i vasi del feto acquisiranno, preleveranno da quelli materni il nutrimento e l'ossigeno necessario per la respirazione. Questo scambio è ad alta efficienza e soprattutto è importante ricordare che i due tipi di vaso, i vasi sanguigni fetali e quelli materni, pur scorrendo a stretto contatto, rimangono rigorosamente separati e il sangue quindi materno e fetale non si mescola mai. Inoltre ricordiamo che la placenta è anche un organo endocrino, ovvero è un organo che produce degli ormoni. In particolare continua a produrre e quindi sostituisce dopo poche settimane il corpo luteo che viene riassorbito, produce sia estrogeni e progesterone, gli ormoni tipicamente femminili, sia un ormone chiamato con la sigla HCG che è specifico della gravidanza e che inibisce ulteriori mestruazioni e la maturazione di ulteriori uova, cioè il ciclo mestruale durante la gravidanza è bloccato da questo ormone. L'amnios, in realtà facciamo un piccolo escursus evolutivo, fa la sua comparsa in vertebrati più primitivi dei mammiferi e in vertebrati ovipari, ovvero i rettili e gli uccelli. Anche in questo caso, diciamo, uno dei grandi successi di questi animali terrestri è la comparsa di uova amniotico, dove l'embrione si sviluppa all'interno del sacchetto piano di liquido. In questo caso non c'è placenta perché il nutrimento a carico del tuorlo si forma comunque un corion ma si formano anche altre due membrane, quindi il sistema delle membrane extraembrionali negli animali ovipari è più complesso. In particolare si forma un sacco del tuorlo, noi sappiamo che il tuorlo è il materiale nutritivo nell'uovo dei rettili e degli uccelli ed è circondato da un'ulteriore terza membrana, che nell'uomo si forma ma rimane vuota perché nell'uomo il nutrimento è a carico della placenta. Inoltre, nell'uovo dei rettili e degli uccelli compare una quarta membrana extraembrionale non presente nell'uomo, che è questo che chiamiamo allantoide e che ha una funzione, diciamo, da una parte respiratoria e dall'altra di accumulo dei prodotti di rifiuto, visto che in questo caso l'embrione è autonomo all'interno di un uovo, espulso dal corpo materno e quindi non ha nessuna connessione durante il suo sviluppo con il corpo materno stesso. Di solito la gravidanza nell'uomo dura nove mesi. A seguito di ciò, quando il tempo è finito, possiamo dire scaduto, l'ipofisi produce un ormone che si chiama ostitocina che stimola le contrazioni che saranno il preludio al parto. Questo inizia con la rottura delle acque. La rottura delle acque si intende l'apertura del sacco amniotico e una serie di contrazioni violente delle pareti dell'utero che portano all'espulsione del feto già formato e che inizia, diciamo, a respirare aria soltanto una volta che viene espulso. Queste contrazioni possono essere, come sa chi ha fatto un parto naturale, molto dolorose, possono essere anche prolungate, un travaglio può durare anche diverse ore e sono poi seguite, una volta che il parto è avvenuto, da una serie di contrazioni meno dolorose che porteranno all'espulsione della placenta, che a gravidanza terminata non serve più. Vediamo brevemente lo schema di una ghiandola mammaria. Le ghiandole mammaria si ingrandiscono durante la gravidanza, si preparano a nutrire il neonato, le ghiandole mammaria si sviluppano solo nella donna, nell'uomo si limitano ai capezzoli e sono, per quanto possa sembrare strano, delle ghiandole sudoripare modificate e che, dove i dotti escretori si ramificano all'interno, bene, quindi si ingrossano, diventano più complesse e il liquido che fuoriesce, diciamo, è un liquido altrimenti nutritivo che è il latte. Dopo il parto l'ipofisi produce un ormone che si chiama prolattina che stimola la produzione di latte da parte delle ghiandole mammarie.